Quindi, Giovanni, ci sei? Sì, sì, ci sono, ci sono. Perfetto. Mi nascondevo fino all'ultimo. Mi stavo preoccupando. No, no, no. E niente, quindi ti do un welcome on stage virtuale con il tuo talk Composer Require WordPress. Grazie. Ciao a tutti. Tanto grazie per essere qui virtualmente. Michela ha già introdotto il Pug di Modena Reggio, quindi quello che ho pensato di raccontarvi, vi lascio semplicemente il link. Per chi si vuole iscrivere, è gratuito l'iscrizione e la partecipazione, come tutti i Pug, quindi vi lascio tutto il tempo per prendere il link. Quindi, chi sono io? Sono Giovanni Albero, sono co-founder di Smart. Siamo una startup che offre consulenza nell'ambito IT e marketing. e nel tempo libero, che è sempre meno, collaboro a qualche progetto open source. Quindi, stasera parliamo di WordPress, o perlomeno parliamo di come io ho provato a gestirmi WordPress. Prima però di raccontarvi il mio percorso, diamo un'occhiata alla definizione che possiamo trovare di WordPress sul sito wordpress.org. E cioè che WordPress è un progetto open source che puoi usare per fare fantastici siti, blog o app. e mi fermo sul creare, nel senso che non ho mai trovato un modo di gestire in maniera professionale il mio sito WordPress. Faccio una premessa, io vi parlo di questo mio percorso come utilizzatore. quindi tutto quello che vi racconto non l'ho scritto, tantomeno ho pensato. Quindi è proprio uno use case. Quindi, io mi trovavo a scaricarmi il mio Zifti WordPress, collegarmi al mio server e iniziarmi a installare WordPress, installare tutti i temi o il tema con VFTP, SCP o facendo direttamente il caricamento del file, stessa cosa per i plugin. quindi un deploy inesistente e una configurazione del mio sito fatta tramite costanti con un file che è wp-config che mi dava la possibilità di spostarmi di environment, quindi da environment di stage a develop e così via. Quindi il nostro 12factor app, schiocco di dita, e direi che se ne va non per la metà, ma quasi tutto. Ma quando c'è un cattivo, di solito c'è una squadra di Avenger affronta a venire in aiuto. E questa squadra arriva a conoscerla, arriva a conoscere Wicked More e questa squadra arriva a conoscere grazie a una collaborazione fatta qualche anno fa con Giuseppe Mazzapica che ringrazio e saluto che mi porta a conoscere questo prodotto, questo plugin di Composer. E fondamentalmente quello che cerca di fare è rendere il bootstrap di un sito WordPress il più facile e veloce possibile, ma anche mantenibile. Quindi mi porta a trattare WordPress, libreria PHP per i temi o i plugin che voglio sviluppare, o i temi e i plugin stessi di terze parti come dipendenza. E questo per me era un vantaggio. Quindi vogliamo iniziare a sviluppare il nostro sito WordPress con questa metodologia, quello che andiamo a fare sarà scrivere queste due righe. La prima per installarsi effettivamente WordPress e la seconda per tirarci dentro questo plugin di Composer che ci gestirà l'intera struttura del nostro sito. Quindi posizionandoci le varie risorse con una logica. Piccolo inciso, il jumpy block WordPress non è il repository ufficiale, ma è un mirror. Semplicemente perché WordPress non è presente su GitHub e si utilizza questo, è pratica diffusa di utilizzare questo repository che ogni 15 minuti viene aggiornato tramite bot con il core di WordPress. Quindi dalle slide mi sposto all'IDE e vi mostro già qualcosina di quello che possiamo vedere. Quindi faccio check out su questa commit. Ok, tolgo un po' di roba che per il momento non ci serve perché tanto ce l'installeranno tra poco il nostro Composer. Ok, quindi io parto con il mio Composer in cui dichiaro queste due righe che non vi sto a spiegare ulteriormente. Quindi Composer install con un po' di pazienza iniziamo a vedere arrivare giù tutto ciò che abbiamo chiesto. eseguo alcuni task e possiamo vedere come all'interno troverò la vendor con tutte le dipendenze di cui ho bisogno. L'installazione di WordPress quindi quella che mi andavo a zippare sul mio server una WP content che va in sostituzione di quella interna alla cartella WordPress con dentro plugin e temi che adesso sono vuoti come mi aspetto perché io non ho dichiarato nessun plugin in nessun tempo. Altro file è un file environment quindi quello che ci dà la possibilità di poter riprodurre il nostro sito il nostro ambiente sui vari environment e andiamo già a crearci quello che useremo per questa demo quindi questo qua il db name WordPress root root in più aggiungo un dbhost localhost ok potremmo provare già a vedere se ci risponde qualcosa quindi uso il server built in dphp e direi che la porta e aggiungo anche qua la wp-home http .tl localhost 4000 uno zero se lo siamo dimenticati ok torno sul browser localhost 4000 e ok qualcosa ci risponde in realtà non è in grado di collegarsi a nessun database quindi per portarvi alla fine di questo esempio io vado a startare il mio container con MySQL con già un database WordPress come l'ho configurato prima ok ho qualche refuso ma lo andiamo a togliere ok quindi torno sul browser MySQL si starta con un po' di calma forse troppa calma vediamo se è ancora attivo sì vediamo un po' ok il problema è questo perché voglio dare gli 127.001 allora giusto crea un file di cache quindi in realtà sta prendendo la configurazione per motivi di performance si crea quel file lì e ci siamo ok quindi installiamo il nostro sito WordPress username Giovanni password confermo che è una password molto debole installa WordPress ok anche qui fai sui ragionamenti e ci siamo perché sta arrivando la response perfetto login password password ok siamo nel nostro dashboard di WordPress come ci aspettiamo plugin installati zero e temi anch'essi zero al di là che sta puntando a un tema di default ok torno alle slide quindi adesso che abbiamo un'installazione WordPress pulita senza plugin e senza temi quello che possiamo iniziare a fare è installare plugin di terze parti installare temi o creare dei temi figli o iniziare a crearci i nostri plugin e i nostri temi partiamo dal primo caso in cui voglio installarmi plugin e temi di terze parti in questo caso ci viene comodo in aiuto un composer repository dedicato a plugin e temi di WordPress che sono gli stessi che troviamo su WordPress.org come facciamo ad utilizzarlo andiamo ad aggiungere una repository al nostro composer JSON quindi un altro punto in cui andare a cercare cose in questo caso temi e plugin quindi salto subito a un'altra demo e parto dal browser nel senso che vi mostro già il sito e per esempio diciamo che vogliamo cercare il plugin per il SEO WordPress SEO che è il Yoast SEO che penso sia tra i più utilizzati se ho il dubbio che quello che sto cercando sia corretto o meno il nome punta al plugin di WordPress.org quindi in questo caso conferma che è il plugin che cercavo quindi seleziono una versione desiderata in questo caso prendo l'ultima mi sposto nuovamente su lead andandomi a mi sposto su master per poi andare sulla demo di riferimento quindi andiamo qua ok quindi in composer.json ho definito la repository che che volevo cioè che volevo utilizzare a questo punto io dico composer require il plugin che di cui ho bisogno anche qui lui è andato a installarsi il plugin che trovo all'interno di wp-content plugins WordPress.seo stessa cosa per il tema quindi torno qua diciamo che voglio cercare 2020 che era il tema che stava puntando prima il tema è questo ne prendo la versione 1.3 e andiamo di qua composer require questo tema ok quindi da plugin abbiamo anche il tema arrivati a questo punto io torno sul mio sito che intanto mi ha sloggato ma poco importa faccio un refresh e vedo il tema stessa cosa per il plugin potrebbero che lo troverò disabilitato e me lo attiverò quindi al netto del plugin in realtà col tema abbiamo già un sito pronto all'uso quindi torniamo su le slide questo approccio già in questa fase qua vediamo che o almeno io ho visto che mi ho portato lo sviluppo di un sito WordPress in un contesto più professionale contesto più professionale al netto del del database cioè dei contenuti perché WordPress salverà tutti i contenuti tra pagine post all'interno del database e tutti i file che sono stati caricati nello specifico ambiente quelli sono costretto poi a portarmeli dietro e ho un pieno controllo di plugin e temi installati cioè non ho il caso in cui consegno il sito e poi me lo trovo riempito di plugin perché magari avevano bisogno di diverse funzionalità ne mantengo il controllo quindi c'è bisogno di un plugin si fa una nuova require e così via naturalmente questo fa sì che io inizia a portare a utilizzare un deploy quindi una strategia di deploy quindi un deployer e oltre al deployer inizio posso decidere di iniziare a sviluppare il mio plugin all'interno di questo progetto ok senza fare esternamente per poi tirarsi di dentro in un qualche modo per cui rispetto a deployer faccio giusto un accenno quindi andiamo qua ok ci tiriamo dentro deployer in questo caso con un require dev di deployer deployer bin deploy init e abbiamo il nostro file molto direi uguale per qualsiasi sito per qualsiasi progetto PHP al netto di dichiarare dei shared files o shared years per quelle che sono le gli uploads e i file di environment il file di environment quindi poca roba in questo caso come detto posso anche decidere di andarmi a creare dei plugin quindi crea una cartella content dev adesso vediamo se il nome giusto era dev content vado a memoria ma 50% di probabilità di prenderci ce l'ho plugins e poi facciamo un plugin complicatissimo che lo chiamiamo demo plugin al cui interno facciamo una classe non questa facciamo un file PHP che lo chiamiamo demo plugin diamo un namespace giusto per ok classe demo plugin e poi l'unica roba che serve a WordPress per trovare questo plugin plugin name demo plugin a questo punto io ho bisogno di trovarmelo qua dentro per vedere se ho fatto tutto giusto per trovarmelo lì dentro composer WP starter ok ho preso il suo nome della cartella fa anche questo task in più quindi pubblica il mio contenuto che sta sviluppando plugin o temi all'interno di WP content e lo fa semplicemente mettendo un simlink stessa cosa posso decidere di farla con un tema ora anche qui vi porto su questo commit stessa cosa per il tema io ho il mio tema anch'esso complicato in cui ho un index.php usato per renderizzare tutto e lo style che serve per dichiarare il tema far sì che questo sia leggibile da WordPress anche qui facciamo un composer WP starter così che andiamo a pubblicarci anche il nostro tema e tornando sul sito ci riloghiamo vado su temi a questo punto mi riporne anche il tema che ho appena creato lo attiviamo perché mi piace di più e tra i plugin installati troviamo anche demo plugin che non fa niente però c'è facciamo un visit site ok abbiamo il nostro tema che non è dei più belli però fa il suo lavoro ok qua altra situazione che può capitare è doversi installare plugin e o temi acquistati o comunque privati quindi che non sono disponibili su WPackages quello che si fa allora o almeno quello che faccio è andarsi a aggiungere un nuovo repository che praticamente va ad indicare il percorso dello zip contenente in questo caso il plugin e si utilizza composer installer che tramite il type dichiarato va a posizionare il pacchetto che sto indicando nel percorso corretto in questo caso WP content plug-ins quindi subito di demo che ho sbagliato qua torno ok spoiler che sta per finire ok git 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 res git checkout quindi come ho appena raccontato qui dichiaro il mio nuovo repository che indica un plugin comunque scaricato in locale in questo caso è un plugin che si trova anche su webpackages ma ai fini della demo me lo sono portato qui in questa cartella external plugins quindi dichiaro il suo nome con cui lo richiamerò col composer dichiaro che è un wordpress plugin dichiaro il percorso e la versione di composer install quindi senza dilungarmi troppo faccio composer require extra contact meno form e lui prende subito la versione che ho dichiarato qua giustamente e adesso sto installando anche altre cose ma tra tutto si va anche a installare il il plugin che ho dichiarato plugin che trovo sempre qua dentro quindi e non volevo mettervi questa giusto per completezza se refresco avrò anche il plugin che ho appena installato ok l'ho già fatto vedere due volte comunque siamo arrivati alla fine e vi ringrazio per aver seguito se ci sono domande ben rispondo più che volentieri grazie grazie Giovanni ho perso mi senti? sì 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 allora grazie del tuo intervento grazie di questo chiusura hai avuto così questo ruolo di arrivare con l'ultimo intervento del PHP Day Pug Edition c'è qualche domanda ok allora questa è arrivata dieci minuti fa quindi forse devi ripensare a doveri e se avessi una cartella denominata in maniera differente da WP Content come faccio a puntarla per far installare il plugin o temi? allora penso ripeto che ne parlo da utilizzatore quindi penso sia configurabile il nome della cartella nel senso che tra le varie variabili d'ambiente ci sia anche quella ad ogni modo all'interno della presentazione ho messo il link al repository ma ci sono tutte le opzioni che si possono passare nel caso e magari magari provare a comprare in diretta sempre la stessa persona che è David dice ma non è più macchinoso così non ho capito se da console non puoi installare il plugin ma poi posso fare gli aggiornamenti quindi non ho comunque il controllo beh no in realtà è tutto disabilitabile cioè puoi disabilitare quella che è l'installazione di plugin e l'aggiornamento di WordPress anche quindi in realtà mantieni quel controllo lì è normale che diventa più macchinoso perché tipicamente almeno quello che è successo a me arrivano delle lamentele da reparto marketing che si vuole installare i suoi plugin però adesso poi qua l'ho messo ma in realtà diciamo questo tipo d'approccio a me tornato utile nel momento in cui hanno installato o comunque hanno voluto installare un plugin acquistato di quelli che si comprano e che aveva una falla di sicurezza quindi mi sono trovato il sito completamente infettato e avere il controllo di cosa installato e che versione mi ha dato la possibilità di replicare l'intero sito e semplicemente andare a recuperare quella parte personalizzata di contenuti a database e di asset di media caricati su quel sito quindi si è macchinoso però ti dà un vantaggio in più rispetto ad alcune condizioni situazioni altra domanda come gestisci gli update dei plugin disabiliti gli update da wp-config .php conosci una soluzione perché gestisci più di 100 siti questa dobbiamo mandarla a chi ne sa più di me in questo caso nel senso avrai sempre poi dipende uno come se li vuol gestire normale che avrai un repo per ogni sito un repository per ogni sito e almeno e la gestirai così però è un caso abbastanza c'è un caso specifico che sicuramente va approfondito chi utilizza livelli maggiori del mio ok come gestisci plugin premium hai sentito parlare di Satispress no non ho sentito premium c'è plugin di che tipo di quelli che vanno poi attivati domanda c'è solo così come gestisci plugin premium immagino quelli che hanno chiavi di attivazione sì anche lì sono casi specifici quindi generalmente hanno sempre una versione freemium da utilizzare in locale che magari per gli scopi di sviluppo va più che bene e nel caso specifico non saprei cioè nel senso non mi sono mai ritrovato onestamente cioè l'unico premium che mi viene in mente è il revolution slider di turno che però comunque ha sempre una versione free quindi in realtà la userò poi in produzione quella prima ok ancora una domanda cosa ne pensi dello stack bedrock bedrock più non so se è sage o se è un refuso vuole dire stage di root se mi è capitato di utilizzarlo hai preso spunto da bedrock per realizzare questo progetto no poi ripeto non sono tra i creatori del progetto nel senso che io sono arrivato a conoscerlo per una collaborazione e ho iniziato a utilizzarlo come end user come consumatore di questo progetto al di là poi che mi piace curiosare seguirlo però non non ho la conoscenza così approfondita dello strumento in sé a livello di core cioè di cosa fa all'interno ok quindi ve ne parlo proprio da da utilizzatore ok allora direi che domande non ce ne sono altre è stata messa tra le domande il link al github satispress che però io direi vi inviterei magari a portare avanti questa discussione sul canale slack che perché adesso è inutile aprire guardarsi sullo slack del gruppo cioè il canale php day su quale stavamo dialogando oggi c'è un canale wordpress eventualmente per chi volesse approfondire se non ci sono altre domande ancora grazie Giovanni grazie a voi grazie grazie a tutti grazie a tutti